Nuovo sgombero di extracomunitari presso l'Exparco La Vela in località Santa Cecilia di Eboli. La ditta incaricata di bonificare l'area nell'effettuare i lavori iniziati questa mattina, si è accorta che all'interno della struttura dormivano circa una ventina di extracomunitari. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale agli ordini del comandante Sigismondo Lettieri, che ha fermato una decina di extracomunitari. Quelli regolari sono fuggiti via in corso le operazioni di verifica. Nel corso del blitz, sempre gli agenti della Polizia Municipale hanno sottoposto a sequestro, in quanto privo di assicurazione, un autocarro di una ditta napoletana privata che lavora per conto dell'esercito italiano e che trasportava forniture militari. Stava recandosi a Persano, ora è stato sottoposto a sequestro.